Ciao ragazzi, 3 dicembre, calendario Essence Perché non riesco a farlo uscire questo? Perché non riesco a farlo uscire alle mortacci? Vediamo di farlo uscire con la forbicetta Ok, ce l'ho fatta Allora, è il Shadow Shader Blush Ok, pennello Eccolo qua, che carino Sì, questa è un'edizione limitata L'hanno messa proprio per questo Perché io ho altri pennelli così Della Essence, li ho sempre comprati Non ce l'ho Vabbè Ottimo direi Anche se io i pennelli non tanto li uso, però fa meno uguale E con questo vi saluto, ciao alla prossima E con questo vi saluto, è un'edizione limitata